Alberto Formaggio, sindaco di Noventa Vicentina e presidente del patto d'area territoriale. Un progetto importante, un progetto che lancia anche la 24H Palladio. Sì, avere un patto d'area in questa terra berica è sicuramente fondamentale, perché il singolo comune non può fare niente da solo, deve lavorare in sinergia, deve lavorare in un progetto di sistema con tutti coloro che vogliono far crescere questa terra. Noi abbiamo oggi fatto una riunione con tutti i partner del patto territoriale, comprese anche le associazioni di categoria. Abbiamo considerato che il progetto 24H Palladio è sicuramente in sintonia con i nostri obiettivi ed è un plauso che va a coloro che lo stanno organizzando e vogliono portarlo avanti. Quindi sicuramente il patto d'area vuole essere insieme con il Palladio 24H, vuole potenziare tutte le forze che sta muovendo e quindi questa area è soprattutto anche per uno sviluppo non soltanto turistico ma anche sociale della nostra terra berica.